Le marche come il cantiere più grande d'Europa tra ricostruzione post-sisma e opere pubbliche ancora sulla carta. Eppure, come in tutto il paese, è lotta per il contratto nazionale senza escludere lo sciopero il prossimo 18 dicembre. Se ne è parlato durante l'assemblea con i lavoratori a Borgo Tufico di Fabriano in uno dei cantieri quadrilatero. Un settore, quello edile, che negli ultimi nove anni ha perso 800.000 posti di lavoro, di cui 14.000 nelle marche, dove hanno chiuso anche 3.200 imprese del settore. Nel 2016 ancora al palo il mercato immobiliare e qualche segno più per le ristrutturazioni edili, ma la ripresa procede a Lumaca. Nel 2016 ci sono 70 milioni di euro di opere incompiute su tutto il territorio regionale. A questo possiamo aggiungere investimenti infrastrutturali che non sono stati eseguiti. Pensiamo al bypass ferroviario a Falconara Marittima o all'ospedale Irca. Stiamo parlando di quasi 4 miliardi di euro di opere su tutto il territorio regionale che possono essere cantierizzate e che purtroppo, ahimè, o per problemi burocratici, amministrativi o in alcune casi per problemi delle aziende che hanno vinto gli appalti, le opere non partono. Sul fronte sisma l'Appennino centrale nei prossimi anni sarà un immenso cantiere, dunque ribadiscono i sindacati e lì ancora più necessaria la tutela contrattuale. Noi abbiamo registrato le prime anomalie e le prime irregolarità sul piazzamento dei basamenti e delle casette. C'è stato purtroppo un'illusione del contratto nazionale principe, quello dell'edilizia, perché sono stati applicati contratti meno costosi e al tempo stesso dentro quel contratto c'è stato in parte del lavoro nero, in parte del lavoro grigio, però dobbiamo anche dire che qualche settimana fa è stata emanata l'ordinanza 41, che fa riferimento in qualche maniera al DURC per congruità, che è uno strumento importante a favore del settore tutto perché va nella direzione del garantire trasparenza e regolarità contrattuale. È importante perché il contratto e gli edili mette delle regole alle quali nell'impresa e nei cantieri tutti si debbano attenere. Regole significano regolarità, significano iscrizione nella cassa edile, tutte cose che permettono di avere un cantiere, un'impresa normale dove il lavoro è al centro dell'attività.